Cari amici di Notalesco nel cuore, siamo di fronte a un signore atriano, un cittadino atriano, il signore Emidio. Benvenuto su Notalesco nel cuore. Grazie. E che cosa ne pensa di questa manifestazione? Penso che sia una bella manifestazione, importante per una cittadina come Atri, che non è abituata a delle manifestazioni così importanti, con tanti giornalisti e grande. Poi penso che anche a livello turistico possa servire come cartolina e come pubblicità per incrementare anche il turismo di Atri. Anche con più partecipazione di gente, per coinvolgere anche altra gente. Benissimo, quindi questo sarà un trampolino di lancio per Atri? Beh sì, lo spero. Spero che sia un trampolino di lancio perché Atria ha delle risorse turistiche diciamo abbastanza notevoli, però forse non vengono magari pubblicizzate abbastanza e questo credo che sia un'ottima occasione per pubblicizzare il turismo e anche la cultura, insomma, come manifestazione culturale, penso che sia molto importante. Grazie al nostro caro Emittio e arrivederci. Grazie.